Benvenuta e benvenuto nel nostro podcast dedicato alle citazioni più belle di sempre. Forse ora ti starai chiedendo qual è la citazione più bella di tutte. Beh, direi che è come cercare un unicorno nella giungla delle parole. Ma non preoccuparti, siamo qui per aiutarti a scoprire le perle nascoste tra le pagine. Ecco alcune citazioni da manuale che ti faranno dire Wow, la vita è ciò che accade quando sei troppo occupato a fare altri piani. John Lennon Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi essere disposto a fare qualcosa che non hai mai fatto. Thomas Jefferson Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a surfare. John Kabat-Zinn La felicità non è qualcosa di pronto all'uso. Viene da azioni proprie. Dalai Lama Ora che hai un po' più di saggezza, quale citazione ti ha rubato il cuore? Condividila con noi nei commenti e scopriremo insieme quale è la più amata. Grazie a tutti. Ciao 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 a tutti. Grazie a tutti.